Gentili telespettatori, buona giornata. Bertinotti dice che la Meloni è praticamente... siamo sotto una dittatura. Allora, vediamo se realmente ha raccontato e ha detto questo, perché i titoli dei giornali servono per accalappiare e fare aprire gli articoli in internet e vendere le pubblicità. Poi all'interno bisogna leggere la notizia. Veramente Bertinotti ha detto che siamo in una dittatura? Allora, siamo nel programma L'aria che tira di Mirta Merlino. C'è ospite Fausto Bertinotti, l'ultimo vero comunista, e dice che ci sono dei momenti in politica in cui vale il motto del Vangelo. Sì, il sì, no, il no, il resto è del demonio, il mio è no. Eh? Ma siamo al 27 di ottobre. Dice siamo a una vera novità, ma è regressiva. Siamo di fronte a una riedizione di un tempo che pensavamo lontano, cioè la cultura politica degli anni 50. Le opposizioni e la maggioranza sono state annichilite dal Presidente del Consiglio in una piena dittatura. Fausto, io ho sempre parlato bene di lei. Fausto Bertinotti, l'ultimo vero comunista, la vera sinistra, non sono come quelli di oggi che sono finti. Però da una persona intelligente, come Bertinotti, dire che c'è una piena, una piena, addirittura piena, no? C'è proprio una roba, no? La Meloni oggi era sul balcone di Palazzo Venezia che dichiarava la guerra alla Svizzera, all'Austria, alla Cicoslovacchia, no? Con la folla oceanica sotto, no? Credere, obbedire. Insomma, secondo il Fausto, mannaggia Fausto, le opposizioni e la maggioranza annichilite dalla Meloni. Dice praticamente che ha annichilito anche Salvini e Berlusconi. E meno male, quei due personaggi lì sono impresentabili, inguardabili, inascoltabili. Ma dai, insomma, me li chiamate partiti, Forza Italia e Lega, sono delle robe che mi tengono i brividi solo anche a nominarli. Avete visto come si sono comportati negli ultimi due anni con la Meloni? Avete visto che si guardavano e ridacchiavano mentre la Meloni parlava alla nazione? Insomma, è roba che neanche i quindicenni, sapete, in quelle classi, cioè i compagni di classe che sono... Ma neanche i quindicenni, quelli esagitati, proprio una roba da... Vabbè, comunque, il Fausto vede una piena dittatura, insomma. E che volete farci? Lui vede la piena dittatura. Dice che i discorsi della Meloni sono quelli della destra potente. Potente, potente. La potente che cacchio vuol dire? Fausto, scusi, destra potente. E' una giusta questa qua, è un vero politico, è un vero politico la Meloni. Che cos'è che dice che non piace alla sinistra? Dice tutte cose di sinistra che non sono più a sinistra. Quindi il governo Meloni, all'interno dell'ideologia meloniana, c'è sia destra che sinistra. C'è tutto il mondo della politica, in versione conservatrice. Cioè all'interno della politica della Meloni c'è una visione conservatrice di destra e di sinistra. E a sinistra non è rimasto nulla. Lui, il Fausto, dice che questa è una destra potente. Al posto che dire destra potente dovrebbe dire che questa è una destra con un vero leader. mentre a sinistra non c'è la sinistra, non ci sono i diali di sinistra e non c'è nessun leader. Solo che forse l'ho ripetuto troppe volte quello che vi sto dicendo io, perché Bertinotti pensa a quello che vi sto dicendo io. Però oggi dice che c'è una piena dittatura, una destra potente. E poi dice che gli italiani hanno nostalgia della destra per bene. Come? Nostalgia della destra per bene negli altri paesi. Cosa vuol dire? Ma di chi? Di Trump, della Thatcher, di Reagan? Non si capisce, perché dice queste parole qua. Sono quelli della destra potenti. Poi Bertinotti si scaglia contro gli italiani in rei di avere nostalgia della destra per bene negli altri paesi. Ma cos'è la destra per bene negli altri paesi? Boh. Dice, quando la destra vince tende a essere sempre estrema. Ma non mi è sembrato che la Meloni stia estremizzando qualcosa. Dice, guardi l'impianto del governo che è conservatore reazionario. Ma che cosa c'è di reazionario nell'impianto del governo? Aver messo la russa che collezione a busti di Mussolini a casa? Bah, reazionario. Insomma. Aver messo Fontana, leghista, come presidente della Camera? Reazionario? Aver messo il prefetto Piantedosi al Viminale? Dove sta il reazionario? Boh. A quel punto la Merluno, che probabilmente come me è rimasta un po' così, dice, scusi, posso farle un'obiezione? La Meloni è la prima donna presidente del Consiglio e arriva tramite delle elezioni. E il Fausto dice, no, 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 no. E la Thatcher da dove arriva? Non prendiamo lucciole per lanterne. Allora, anche in questo caso, Bertinotti, che lo facevo più, si arrampica sugli specchi. La Merlino dice chiaramente, la Meloni, prima donna premier, arriva lì tramite delle elezioni libere democratiche. Lei mi parla di completa democrazia, forze reazionarie, destra potente. Insomma, caro Bertinotti, poteva andare in trasmissione e dire la verità, che la destra è al potere con un vero leader, una destra conservatrice, che ha al suo interno i migliori valori della sinistra più tutti quelli della destra, e a sinistra non c'è più niente, c'è siccità, c'è aridità. Non esiste più la sinistra. Cose che lui, in questi mesi, ha sempre detto. La sinistra non esiste, non esiste più. I suoi valori sono a destra. E ora ci parla di dittatura? Fausto, mi è caduto, Fausto, con il cashmere, con il Rolex, con la R da milionario di sinistra, che è cribio. Ma mi è caduto sia lei, Bertinotti, che come Marco Rizzo. Anche Marco Rizzo mi è caduto, dopo le ultime uscite che ha fatto, era lì che brindava, insomma, non si brinda mai alla scomparsa di qualcuno, mai. Li fa capire realmente chi sei. Quindi avevo sopravvalutato Marco Rizzo, avevo sopravvalutato Fausto Bertinotti, vedo che il livore dell'uomo di sinistra è potente, potente, potente. Va bene. Che vi devo dire? È un mondo difficile, felicità a momenti. Gaudet mater ecclesia, gioisce la madre chiesa. Arrivederci a tutti.